Quest'oggi si celebra la festa della conversione di San Paolo. Da acerrimo persecutore dei cristiani diviene apostolo, animato da un vero e proprio amore per Gesù e per il Vangelo. Cosa cambierà la sua vita? Cosa lo porterà a convertirsi? Ma soltanto il fatto che mentre era in viaggio verso Damasco per arrestare dei cristiani una luce lo folgora e Gesù stesso li parla? Beh, sicuramente questa cosa l'ha colpito. E questo lo troviamo raccontato nella prima lettura. Ma non credo che sia solo questo. Certamente questo evento lo ha sconvolto, lo ha fatto restare cieco per tre giorni, lo ha riportato all'umiltà e allo stesso tempo in quei tre giorni deve aver riflettuto su se stesso, su quello che stava facendo, è dovuto rientrare in se stesso e ripensare alla sua vita e forse anche alla sua fede. Ma ciò che ha fatto sì che diventasse un fervente apostolo, penso che sia anche proprio quei giorni nei quali resta insieme ad alcuni cristiani che lo iniziano, che lo introducono al cristianesimo. E lì deve aver colto tutta la bellezza del messaggio di Gesù, scoprendo che Gesù di Nazareth non era un nemico, ma un amico dell'uomo, dell'umanità. I cristiani non diffondono dottrine pericolose ma belle, un messaggio bello che dona vita, speranza, senso, nuove prospettive, che andava oltre, un messaggio che andava oltre la legge ebraica, per quanto importante il messaggio di Gesù andava oltre. Ecco, per cui Paolo scopre la bellezza del messaggio di Cristo. E veniamo al Vangelo di oggi. Vi ho citato la prima lettura, ma in modo particolare mi voglio soffermare sul Vangelo. Dove leggiamo di Gesù che dopo essere risorto appare i discepoli prima di ascendere al cielo. Li invia, li manda ad annunciare l'esperienza che hanno vissuto dicendo andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Andate ad annunciare il Vangelo. Il Vangelo vuol dire bella notizia, buona notizia. Cioè li manda ad annunciare qualcosa di bello, di buono, che può far bene a tanta gente, che può guarire le persone dalla tristezza, dallo sconforto, dal vuoto interiore, dal pensare che Dio sia assente o peggio che sia un rivale della nostra felicità. San Paolo scopre, anche lui, che Gesù ha delle buone e belle notizie da dare all'uomo. E queste vanno annunciate, diffuse, il più possibile. Scopre la bellezza del messaggio di Cristo su di sé e allo stesso tempo, quando scopri una cosa bella, hai voglia di farla conoscere a tutti. E questa è la molla che fa smuovere ogni discepolo, ogni persona che si dedica all'annuncio. Lo scoprire che il Vangelo è una bella notizia per la mia vita e di conseguenza devo far sì che ogni persona possa scoprire questo. Io ho colto che essere cristiano vuol dire credere in una bella notizia, che Dio ha delle buone e belle notizie per noi, che la mia fede si fonda su un messaggio bello e non triste, opprimente, inquietante. Io ho colto la bellezza del messaggio di Gesù. Oppure la mia fede è fondata solo sul fare delle pratiche religiose, anche buone, ma animate solo dalla paura, dal tentativo di tenermi buono Dio. Ho colto che essere cristiano non è una roba triste, ma è credere in un Dio che mi ama, con il quale posso relazionarmi in modo bello, come dicevo ieri, con il quale posso instaurare una familiarità. Sono un cristiano contento di credere. O penso che la fede, che credere in Dio sia una roba triste, una roba da... Se non lo sono io per primo, come potrò mai affascinare altre persone? Ciò che affascina la gente, ciò di cui ha più bisogno, anche nel nostro tempo la gente, è scoprire che credere è bello, che il Vangelo contiene delle belle notizie che ci fanno del bene. È quanto scoprirà San Paolo ed è ciò che lo porterà a dedicarsi tutta la vita per diffondere ovunque la bella e la buona notizia. Buona giornata.